Lauti hai pareggiato il tuo record di gol, 21 in una stagione, serve il miglior toro per lo sprint finale. Sì, sono contento per questo e sono contento anche perché siamo riusciti a vincere una partita complicata, difficile, fisica e siamo stati all'altezza e siamo contenti per questo. Ci sono ancora quattro partite con due trofei in palio, come vi sentite? Benissimo, benissimo, stiamo bene, sappiamo che abbiamo persi dei punti importanti, adesso tocca a noi correre dietro, vincere, poi in mezzo abbiamo un trofeo di Coppa Italia da giocare, dobbiamo recuperare e prepararci bene per questo sprint finale. Quanto morale vi dà la vittoria di questa sera? Anche perché non era un campo facile, soprattutto era una squadra molto fisica che stava molto bene. Sì, loro sono una squadra fisica, una squadra che viene a cuomo, gioca a seconde palle, la ripartenza abbiamo presi poca, abbiamo preparato questo e poi soffriamo ancora una volta in ultimi minuti ma siamo riusciti a vincere, come ti ho detto. Adesso prepariamo la partita che ci aspetta avanti, che ancora sarà più difficile perché finisce il campionato e dobbiamo vincere. Un'ultima domanda da studio. Sì, ciao Lattaro, volevo chiederti se in questi giorni avete dovuto preparare più del solito la partita anche dal punto di vista mentale, vista la trasferta difficile e così importante che dovevate affrontare quest'oggi. Sì, non so se preparare di un'altra maniera o di più, sennò essere più gruppo, più squadra in questo momento serve quello, serve essere fratelli dentro il campo perché dobbiamo vincere, non c'è più tempo, non c'è più punti da perdere, quindi è questo, manca poco, sappiamo che dobbiamo fare e lo che dobbiamo fare è vincere, basta. Grazie, grazie mille. Matteo, sono stati 90 minuti molto intensi, tra l'altro l'Inter arriva da un calendario davvero fitto di impegni ma la vostra tenuta fisica mi è sembrata davvero incredibile. Sì, assolutamente, in queste ultime settimane anche se si è un po' stanchi si cerca di fare il massimo, non si sente la stanchezza perché sappiamo quanto sono importanti queste ultime partite e cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi. Non è stata facile questa partita anche perché l'Udinese ha davvero tenuto fino alla fine, che tipo di sensazioni vi è portata a casa dopo questa sera? No, sicuramente positive, volevamo rifarci dopo il passo falso di mercoledì contro Bologna e oggi eravamo determinati e volenterosi di portare a casa una vittoria che per noi significava tanto, a maggior ragione dopo il risultato di San Siro del Milan e quindi siamo stati bravi, siamo scesi in campo con la giusta determinazione, magari potevamo non subire gol e quindi soffrire un po' di meno però va bene così, l'importante era portare a casa tre punti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.